Piano e tastiere, Umberto Verga 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 di chi non c'è lo che resta lì, mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, un posto pronto ce n'è stato, ce n'è, ce n'è pensato, non so, non so, non mi spiego mai perché io non riesco a metter via, riesco a metter via, riesco a metter via a te. Grazie a tutti. Grazie.